Nella tarda serata di ieri il ritrovamento del corpo, stamane il fermo del presunto assassino. Ci sarebbe stata una lite di qualche tipo alla base della violenza culminata ieri a tarda ora nell'omicidio di un extra comunitario ancora non identificato. La vittima è stata ritrovata reversa a terra, il corpo coperto da diverse ferite d'arma da taglio, in vico colonne al lavinaio, in zona mercato. Stamane una prima sostanziale svolta nelle indagini. I carabinieri hanno infatti fermato un uomo di 61 anni perché è indiziato del delitto avvenuto nelle ore precedenti, a poca distanza da Porta Nolana. Ora l'arrestato si trova in carcere, dove è in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del GIP. Intanto proseguono le indagini dei militari dell'arma dei carabinieri per risalire all'identità della vittima, che al momento resta sconosciuta.